Siamo arrivati al nostro venerdì notte, prima di tutto, prima di tutto, che bello essere tornati finalmente a ballare, papà del cavallo, ci facciamo un applauso, ci siamo, ci siamo venerdì notte, ben arrivati a tutti quanti, intanto, volevamo ricordarvi che tutti i venerdì quindi adesso saremo operativi con la nostra serata latina e tra due venerdì ci sarà una fantastica serata revival, dove andremo a fare pezzi a partire dagli anni 70-80, venendo anche ovviamente con Kiki Di Ceni e Giro Latino, quindi vi aspettiamo fra due venerdì, bene siamo arrivati a venerdì notte, showtime, dove questa sera abbiamo ospiti con noi, la scuola la Best Project che si presenta allo spettacolo qui con Best Project Company, signore e signori, un applauso! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti